Per non perderti nessun contenuto su questo canale ti invito a premere la campanella per ricevere ogni giorno i feed e a passare da Instagram per contenuti sempre esclusivi. Buona visione! Ma raga, mamma mia, qui è tolola, c'hanno degli chef che veramente sto esplodendo, aiuto! Ma raga, che cazzo ci fate messi in quel bicchiere? D'ogni arcopaleni... Dai, che cazzo è sta roba? Un minchia di glu? Ma dai, tra un attimo mi ci trovo dentro di me gli schimesi con le focche! Io lo so, sì lo so! Ma adesso voglio proprio sapere chi è lo stronzo che mentre dormivo mi ha ficcato l'elio in testa dalle orecchie. Veramente curioso che adesso ci tiro due sfuriate, vedi? Ormai è troppo tardi, addio! Ma vince sempre l'oro. Raga, ma perché cazzo c'ho stoneggi in testa? Perché c'ho stoneggi in testa? Cos'è sta roba? Oh, guarda, mi hanno impiantato l'oro addosso. Tra l'ottimo mi vado a vendere un Pokémon Market e ci faccio i soldi. Eeeh! Voi mi dovete spiegare perché mi avete attaccato un magnete sul corpo, ok? Adesso devo sempre girarmi verso il Polo Nord, fammi... Come dice il famosissimo proverbio, di birra e di fregna, il baffo si impregna. No, non è vero, è solo di birra perché sono brutte e sono più... Rai tu, che tu con l'LSD? Io non sto capendo un cazzo, aiuto. Oh, you touch my tra-la-la. Mmm, my ding-ding-dong. Eh, scusate. No, non è vero, è vero, è vero, è vero, è vero. No, non è vero, è vero.